Sembrerà banale, ma il luogo dove vorrai posizionarti è la prima cosa a cui devi fare attenzione. Sai quante brutte figure si fanno scegliendo un posto inadatto a una videochiamata? Il disordine, persone che passano, finestre che ti mettono in controluce. Trovare il posto migliore è fondamentale. Ecco i miei consigli per trovarlo velocemente. Trova un luogo dove puoi schermare tutte le fonti di luce naturali, come finestre o lucernai. Avere una luce naturale crea molti problemi, perché può variare di molto durante la chiamata, mandando in tilt l'esposizione. Trova un posto che sia sempre ordinato. Avere una grande stanza può essere bello, ma se non hai la certezza che sia sempre in ordine, meglio optare per un posto più piccolo, ma che non sia mai in disordine. Deve sembrare un luogo caldo e confortevole. Evita muri totalmente vuoti. Metti una pianta, un quadro o magari una lampada che illumina il muro dal basso. Una zona semplice e ordinata. Trova una posizione comoda e che non sia nel mezzo del passaggio di altre persone. Soprattutto se lavori in uffici affollati o addirittura da casa, la tua posizione deve essere sempre al sicuro. Non ci deve essere la possibilità che qualcuno possa passare alle tue spalle. Toglie l'attenzione da te e se l'argomento della chiamata è riservato, non fa percepire di sicuro una gran professionalità. Se hai trovato un posto che riesce a soddisfare queste tre caratteristiche fondamentali, puoi passare alla prossima lezione. Grazie.